Buonasera, buonasera a tutti, oggi 20 settembre, io sono Gianni Colacione e cominciamo questa litola oggi con questo collegamento in diretta con Paolo Izzo. Paolo Izzo, grazie di essere qui con noi, è segretario dell'Associazione Radicali e Radicali Roma. Abbiamo contattato lui anche perché oggi è una data abbastanza importante, soprattutto per il paese intero e ovviamente anche l'attenzione che storicamente hanno mostrato tutto quanto il mondo radicale a questa giornata che è appunto l'anniversario della breccia di Porta Pia, oggi ricorre il 143esimo anniversario. Il mondo radicale è impegnato nella raccolta firme, nel controllo delle firme, ormai stiamo con gli sgoccioli per quanto riguarda i 12 referendum e Paolo Izzo adesso ci dirà intanto come questa cosa, però partirei con questo anniversario per dirci se ci sono state iniziative, se non ci sono state, perché. A te Paolo. Allora sì, di nuovo buonasera a tutti, a te Gianni, a Donato e a Liberi TV. Sì, la giornata di oggi sulle prime noi avevamo provato a organizzare almeno un tavolo di raccolta firme e poi raccontiamo perché, ma molti ascoltatori già lo sapranno, a Porta Pia. Soltanto che c'è stato negato il permesso in quanto sembrava che ci fossero altre manifestazioni previste e quindi l'occupazione del suolo pubblico ci è stata negata. A quel punto comunque avremmo fatto un passaggio in forma ridotta di questa cosa. Abbiamo deciso di rinunciarci proprio, anche se c'erano gli amici dell'UAR che ci aspettavano, ci saremmo messi lì a fare una piccola manifestazione, però poi abbiamo anche pensato che una manifestazione in forma ridotta di un evento importante per la laicità dello Stato, per ricordarsi sempre di come si possa evitare di essere occupati dallo Stato e la città del Vaticano e questo tutt'ora invece accade e sappiamo in che misura, allora a quel punto abbiamo detto no, noi tanto siamo completamente impegnati sul fronte referendario, a questo punto c'è un'opzione tra i 12 referendum che consente di simboleggiare in qualche modo la presa di posizione sulla laicità ed è quello che riguarda l'otto per mille, quasi nessuno sa ormai che l'otto per mille quando non si sceglie a chi destinarlo viene ripartito, la quota, la somma che i contribuenti danno viene ripartita proporzionalmente a quelli che hanno già ricevuto l'otto per mille di chi invece ha espresso la scelta, per cui questa somma è abbastanza ingente perché moltissime persone non scelgono a chi destinare l'otto per mille, non lo sanno, non lo fanno in dichiarazione e tutto quanto, la maggior parte di questa somma l'80% va alla Chiesa Cattolica e questo a totale è saputa perché quasi nessuno, anche a prendere i contributi diretti dei contribuenti cattolici che giustamente vogliono destinarlo alla CEI, perché poi in realtà è la conferenza episcopale italiana che percepisce questo denaro, lo fa inconsapevolmente, noi diamo tantissimi soldi inconsapevolmente alla Chiesa, alla Chiesa insomma alla conferenza episcopale, considerando che quest'anno soltanto dall'otto per mille la conferenza episcopale ha preso 1 miliardo e 200 milioni di Euro e non è poco, allora poi c'è stata un'altra riflessione che si è aggiunta a questa appunto che poi cerchiamo di capire insieme magari più avanti sulla negazione dello spazio aperto alla questura, si è aggiunta l'idea che il nostro supporto anche all'azione un po' riformatrice di questo Papa nuovo, per cui noi vediamo un Papa che veramente, come dice Staderini, sembra più anticlericale di noi, come supporto abbiamo detto, bene, allora noi dedichiamo la nostra breccia, facciamo la nostra breccia o tentiamo di fare la nostra breccia nelle casse della conferenza episcopale italiana con questo referendum, se questo referendum arrivasse a raccogliere le sufficienti 500 mila firme per essere indetto, dall'aprile dell'anno prossimo ci potrebbe essere un quesito che chiede agli italiani se sono d'accordo di lasciare l'otto per mille non scelto allo Stato italiano, come secondo me è giusto che sia. Ora abbiamo appunto oggi fatto un comunicato, poi in maniera quasi congiunta senza nemmeno parlarci, perché quasi non ci riusciamo a parlare con i compagni radicali per quanti sforzi ognuno di noi faccia su vari fronti contemporaneamente, Mario e io abbiamo fatto quasi lo stesso comunicato in cui dicevamo, ah diamo una mano a Bergoglio anche in questo modo, cioè vuole riformare la Chiesa, vuole che non sia più un centro d'affari come è negli ultimi decenni, allora venga incontro a questo referendum e già sarebbe il terzo quarto che riguarda anche Papa Francesco insieme a quelli dell'immigrazione, insieme a quello dell'ergastolo che Papa Francesco, il Vaticano comunque ha abolito dal suo ordinamento e sarebbe insomma sono dei referendum che piacerebbero anche a un Papa riformatore come questo, ora tempi difficili per gli anticlericali come me, per gli eretici, perché ovviamente ci troviamo un Papa che ogni giorno ne dice una che assomiglia, assomiglia dico, sottolineo a qualcosa che può piacere a un radicale, però fatto sta che oggi abbiamo dedicato la nostra breccia più alle casse del Vaticano, ma questo è capitato anche altre volte, perché anche negli anni passati con varie opinte manifestazioni si faceva la richiesta che anche la Chiesa pagasse l'Imu sulla casa, sulle case, sulle proprietà e tutto quanto e si sa bene quale polemica e si sa purtroppo anche bene quanto non abbia fatto lo Stato italiano per accaparrarsi quelle cifre che pure ci sarebbero servite in un momento di crisi economica. Peraltro ci sta tutta una scuola di pensiero su questa portata, alcuni dicono rivoluzionaria di questo nuovo papato, alcuni dicono che è soltanto una manovra un po' soltanto mediatica, una novità nel senso di espressione comunicativa, però poi insomma in definitiva i concetti sono quelli, allora io ti chiedo, si può chiedere magari, non lo so, se arrivi a pensare che possa essere un papa addirittura, non lo so, per il divorzio, per l'aborto e così via, ci sono dei limiti, immagino, e tu che cosa ne pensi? Una portata veramente rivoluzionaria o è soltanto un po' un'operazione mediatica? Non è soltanto un'operazione mediatica, è anche più profondamente qualcosa di più, è un'operazione che ha a che vedere col sociale, è un'operazione che ha a che vedere con la politica, fuori di questione, almeno dal mio punto di vista, che un papa sia sempre un papa, non è che possa stravolgere quelli che sono i diktat del Vaticano da secoli a questa parte, anzi da decenni a questa parte, perché non ci dimentichiamo che tanti dogmi se li sono inventati nel corso del tempo, che sono sempre stati scritti nelle sacre scritture come dicono loro, allora ecco io quello che dico sempre un papa è sempre un papa, per cui e questo basterebbe notarlo dalle parole, analizzando i discorsi che fa, anche la questione delle donne che abortiscono, poverine le possiamo perdonare, pur che essi pentano, quindi già lì c'è sempre la solita posizione, il transista io la chiamo, ma abbastanza oscurantista di sicuro sul fatto che invece quello sia un diritto alla libertà di scelta delle donne e che se l'hanno fatto possono stare male loro, possono soffrirne psicologicamente, ma pentirsi se hanno fatto una scelta possono avere un problema loro che è indotto poi per altro da tutte queste continue rimarchi che fanno sia la società sia la chiesa cattolica. Stessa cosa ai gay che comunque c'è questo sottofondo per dire siete un po' malati, però poi anche in là vi perdoniamo, questa tecnica del perdono in qualche modo sembra voler essere una proiezione del perdono che in qualche modo si richiede la chiesa stessa e lì arriva il perché semmai c'è stata questa operazione Bergoglio proprio costruita dal mio punto di vista, perché il papa che c'era prima era uno durissimo, un teologo, un filosofo, quello che voleva essere il vero riformatore, ma nel senso della riforma di vecchia memoria della chiesa è stato sostituito, in qualche modo lui si è fatto indietro, ma è anche vero che è stato sostituito da una figura che rispecchia, come dici tu poi, mediaticamente anche una cosa per cui è difficilissimo criticarlo, anzi tutti vogliono bene e anche giustamente perché poi magari in fondo c'è una sua sincerità, però ciò non toglie che è un papa, un pontefice che segue una linea e di una chiesa a cui, io dico sempre, lo Stato italiano non è che riceve da questa chiesa chissà quali grandissimi comandi o comandamenti, ma si genuflette, lo Stato italiano si genuflette preventivamente rispetto al potere e lì ritorno alla questione economica, economico finanziario di un altro Stato dal mio punto di vista. Quindi è più il clericalismo laico che l'ingerenza del Vaticano? Eh sì, l'altro giorno ho intervistato un filosofo napolitano Aldo Masullo che mi ha detto pure questa parola laicità, lui diceva che è un'invenzione dei cattolici stessi, perché il laico è il popolo credente che non è però clericale, quindi nello stesso momento in cui noi ci affermiamo laici stiamo comunque utilizzando un termine inventato da… siamo in qualche modo intrisi di questa cultura e lo sappiamo bene, per cui quelle cose sul senso di colpa, il peccato originale, tutte queste balle dal mio punto di vista che ci sono state propinate per secoli e alla fine poi si sono anche un po' sedimentate nella coscienza delle persone, purtroppo a volte anche nell'inconscio e quindi questo fa fare brutti sogni poi. Paolo, in chiusura, come possiamo, come militanti ma anche non militanti, possono aiutare il comitato, i due comitati promotori di questi referendum in questi ultimi giorni? C'è stato anche un piccolo video che LibriTV ha prodotto per… a te un appello, in chiusura. E' molto bello il tuo video, il vostro video, infatti ha circolato in questi giorni. Come si può aiutare? Appunto noi la giornata di oggi non abbiamo potuto fare le grandi manifestazioni con le bandiere belle che facevamo anche allegre rispetto a questa commemorazione, perché siamo impegnati prevalentemente sulle firme raccolte e su quelle ancora da raccogliere proprio per gli elettori last minute che riescano ad arrivare ai tavoli. Per questo io come Radicali Roma abbiamo deciso di mantenere fisso un tavolo fino proprio all'ultimo giorno, che sarà più o meno il 27 di settembre, perché poi dopo non si farebbe nemmeno tempo a certificare le firme, a Torre Argentina, a largo di Torre Argentina, perché è vicina alla sede storica del partito, perché ci confluiscono tantissimi anche compagni che all'ultimo momento vogliono firmare, però la massima urgenza è quella di rimettere a posto tutti i moduli delle firme raccolte, perché le firme raccolte hanno dei moduli che non copiano, diciamo com'è la questione e quindi i dati che vengono scritti dai cittadini non arrivano alle ultime pagine e quindi bisogna ricalcarli tutti manualmente, non le firme che invece sono apposte in originale ovviamente, perché su ogni quesito l'elettore e il proponente il referendum firma in originale, però i dati personali devono essere ricopiati modulo per modulo e lo stiamo facendo. A Roma, noi come Radicali Roma nella sede del partito e poi c'è un enorme posto a via San Silverio 21, vicino via Gregorio VII, dove si stanno collazionando tutti i moduli provenienti da tutti i comuni d'Italia in maniera che si faccia proprio lo spoglio di tutto per vedere che sia tutto in regola prima di portarlo e anche lì c'è la calcatura da fare, quindi per quanto mi riguarda io ancora sfrutto le ultime possibilità di raccogliere firme e di ricalcare tutte le firme prese a Roma che diventeranno in fondo alla fine 10.000 per quanto riguarda solo i Radicali, però l'operazione da fare sarà quella, ricalcare, ricalcare, ricalcare. Io faccio appello e ho chiesto all'ultima riunione dei Radicali Roma che ci mettiamo in uno stato di assemblea permanente, per cui io adesso sono al telefono non tema, poi dopo posso ritornare a ricalcare firme o comunque a cercare di gestire i compagni che si renderanno utili in qualunque modo, stando più o meno vicini al partito oppure andando ad aiutare a via San Silberio, che è una cosa che faremo anche noi poi, una volta smaltito tutto il carico delle firme raccolte da noi direttamente, saremo lì anche negli ultimi giorni a fare il lavoro complessivo che probabilmente non ci farà dormire alcune notti. Ok, allora Paolo ti ringraziamo per questo collegamento, ti saluto con questo ultimo appello che hai fatto, speriamo appunto che la cosa sia fuori di ottimi risultati, grazie ancora e buon lavoro a questo punto, io intanto continuo con l'illustrazione del Parincesto. Grazie a Paolo Izzo, segretario di Gliadica di Roma. Buona serata a voi. Grazie. Grazie. Grazie a tutti